Le autorità polacche stanno arrestando le organizzatrici di una delle manifestazioni più grandi della storia del paese, quella contro il divieto d'aborto nel 2020. Marta Lempart, Clementina Sukanov e Agnieszka Fabin rischiano infatti fino a otto anni di carcere. L'accusa è quella di epidemia colposa perché le manifestazioni si sono tenute durante la pandemia. Tuttavia, le organizzazioni dei diritti umani internazionali sostengono che il governo abbia usato la pandemia per reprimere il dissenso e impedire la protesta. La repressione della polizia è stata molto dura ed è stata denunciata anche dall'osservatorio sulla prevenzione della tortura. Da quando è entrato in vigore il divieto quasi totale di aborto, in Polonia si sono svolte soltanto 107 interruzioni di gravidanza, in un paese da 40 milioni di abitanti. Tuttavia, le donne non hanno smesso di abortire, ma lo fanno soltanto clandestinamente. E quelle che protestano vengono messe a tacere da un governo che somiglia sempre di più a un regime.